Sabato 15 dicembre il Centro Storico resterà sveglio per la Notte Bianca, organizzata dal Comune con la Seconda Municipalità, la Camera di Commercio e la Diocesi di Napoli. Notte d'arte, la cultura sveglia è il titolo scelto per l'evento. Il calendario è fitto di appuntamenti, mostre, concerti e percorsi d'arte, tra cui Street Art Tour, una passeggiata molto speciale, un itinerario inconsueto alla scoperta della street art partenopea. Anche i negozi resteranno aperti in occasione dell'evento, che inizierà alle 18 e terminerà alle 3 del mattino. Saranno aperte molte librerie, da Guida a Tullio Pironti, da Evaluna a Dante Descartes, che ospiteranno presentazioni di libri, reading e musica. Alla Biblioteca Brau, in Piazza Bellini, è prevista una degustazione di vini e un concerto di Marco Zurzolo, mentre saranno visitabili il complesso di Santa Maria la Nova e quello di Santa Chiara. A Piazza Bovio, al Palazzo Camera di Commercio di Napoli, si terranno il tango della borsa e la mostra sfilata tra arte e moda. Sono stati organizzati i concerti al Conservatorio di San Pietro a Maiella e molte piazze del Centro Storico. Questi sono alcuni degli appuntamenti in calendario. Per conoscere il programma completo è possibile visitare il sito www.municipalitaduenapoli.org. Slash Notte d'Arte